Musica Qui stiamo in un posto un po' particolare, sempre di Gallipoli, che è appunto il Parco Radurale. Il Parco Radurale è alberi, c'è sfugli, dove ci sono piante. Quindi piante sicuramente, no? Pure fiori, c'è sfugli, al maglie. Il Parco Radurale è dove ci sono più cose naturali che cose naturali. Il Parco Radurale è dove ci sono più cose naturali. Il Parco Radurale è dove ci sono più cose naturali. Il Parco Radurale è dove ci sono più cose naturali. Il Parco Radurale è dove ci sono più cose naturali.